Si può mangiare bene anche essendo ciliaci, in questo caso abbiamo preparato una ricetta di risotto allo zafferano con ragù di polpo e aria di zucchine romane. Possiamo partire con la preparazione del riso, viene fatto tostare in un rondò di acciaio, viene poi portato a cottura di volta in volta con del fumetto di pesce. Negli ultimi 5 minuti di preparazione vengono aggiunti dei pistilli di zafferano macinati a freddo. Nel piatto viene poi terminato con un'aggiunta di ragù di polpo e per finire, per dare quell'effetto di cromaticità al piatto, con dell'aria di zucchine romane.